ognuno di noi ha le proprie contraddizioni certo capita ma che succede quando ad essere contraddittoria e la società in cui viviamo pensiamo per esempio alla carenza di organico nella sanità ancora più marcata in tempi di pandemia eppure non viene fatto molto per aprire gli ingressi alle professioni sanitarie e così chi può spesso va a laurearsi all'estero ad essere convinto che occorra se non spalancare a tutti la facoltà di medicina almeno ricalibrare il numero degli ingressi è il magnifico rettore dell'università di chieti sergio caputi assolutamente sì se non aperta i numeri dovevano essere ricalcolati totalmente io non sono d'accordo per i medici per gli odontoiatri per le professioni sanitarie con la carenza che c'è oggi francamente io devo dire che sono assolutamente contrario il numero chiuso così stretto e per chi ha avuto la fortuna di entrarci quando è prevista la ripresa delle lezioni in presenza abbiamo deciso che le lezioni si potranno riprendere in presenza dal primo febbraio lo studente che si è organizzato per seguire a distanza può rimanere a distanza fare sia lezioni che esami che tesi lo studente che invece ha voglia e si è organizzato per stare qui nella nella sede sia di chieti che di pescara naturalmente può seguire in presenza i docenti dovranno essere in presenza per fornire il loro supporto ovviamente daremo il nostro palauda il palazzetto dello sport alla asl di chieti in utilizzo per fare dapprima uno screening diagnostico con con i test rapidi per tutti per gli studenti i docenti che rientrano anche per il le persone della città di chieti e poi partiremo con una campagna vaccinale appena saranno disponibili ovviamente i vaccini come vanno le iscrizioni benissimo le iscrizioni noi tenevamo un calo del 20 per cento invece stiamo in salita le iscrizioni sono in aumento secondo lei c'è voglia negli studenti di andare all'università nel senso proprio e di essere presenti nelle aude guardi io credo di sì molti studenti mi iscrivono perché vogliono rientrare all'università avere la possibilità di seguire la docenza in diretta ma io le devo dire anche come docente perché oltre a essere un rettore io faccio il docente e per certe volte guardi parlare davanti a un computer mi fa sentire veramente male